Intanto che sia una problematica non mi sorprende, come si è dato il tema e la sensibilità che c'è verso la sanità, però mi ha sorpreso la posizione dell'ex sindaco Aguzzi, in quanto è vero, quando non c'hanno argomenti si attaccano le persone, ma mi fa specie che lo faccia proprio lui quando si parla di Fosso Signore, è proprio la scelta su cui si basa il Presidente della Regione facendo riferimento a un accordo tra le due città quando era sindaco a Pesaro, l'attuale Presidente della Regione e sindaco a Fano Aguzzi, quindi più che parlare a me dovrebbe parlare a se stesso che era stato lui che aveva condiviso una scelta di quel tipo, oggi tutto si è rimesso in discussione, ho inviato una lettera al Presidente dove chiedevo di revocare quell'atto perché in questa fase non ci deve essere niente di precostituito, ho chiesto e chiedo e chiederò e insieme a me lo faranno tanti altri, che ci rende sul tavolo in modo trasparente tutte le proposte con tutti i costi benefici, con le criticità e gli aspetti positivi, in modo tale che ci possa essere una condivisione, una scelta condivisa non soltanto da Fano ma da tutto il territorio. Ecco Sindaco, Cerescioli aveva dichiarato ai nostri microfoni che avrebbe convocato sia lei che il Sindaco di Pesaro Ricci a breve, vi ha convocati? Non ci ha convocato, spero che ci convocati quando ha argomenti su tutti i siti e abbia tutti gli elementi da mettere alla nostra attenzione perché altrimenti non si fa nessun passo avanti.